Comunque, riprendiamo, benvenuto intanto a chi ieri non ha potuto partecipare, ben ritrovati a quelli che mi hanno ascoltato anche nella giornata di ieri. Oggi riprendiamo con altri argomenti, in effetti avremmo dovuto trattare sia delle informazioni che voi vedete già sullo schermo, che della modalità di relazione, riprendendo in parte anche quello che ci siamo anticipati ieri durante i dibattiti, e in più dei principi di customer care e problem solving. Dal momento che vorrei però farvi vedere qualcosa che ieri non siamo riusciti a percorrere, io direi che tutte le slide sul customer care e problem solving le lascio alla vostra buona volontà di approfondire l'argomento nei giorni prossimi, tanto avrete tutto il materiale che io ho preparato, in modo che possiamo affrontare ancora una parte che ieri abbiamo lasciato per mancanza di tempo e che in effetti ci permetterà di vedere alcuni esempi di realizzazioni che seguono quella che vi ho descritto ieri come catena dei servizi turistici. Quindi vedremo una struttura alberghiera, un servizio di trasporto e così via. Trovo che questo sia importante commentarlo insieme a voi, quindi direi che a meno che non troviamo tempo, ma dubito che nelle tre ore, compresa la pausa, che poi oggi sarà lietata da un coffee break, riusciremo a venirne a capo. Adesso direi di partire con il discorso delle informazioni, anche nella chiacchierata che abbiamo avuto prima dell'inizio di questo incontro e di quello che ci siamo detti ieri, è emerso in maniera molto 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 precisa che il turista con esigenze specifiche ha necessità di avere delle informazioni che riguardano l'idea di vacanza che vuole programmare. Non solo, ma ha anche la necessità di comunicare all'operatore turistico e a cascata dall'operatore turistico a tutti coloro che serviranno parte del prodotto turistico al cliente, quelle che sono le sue esigenze, in maniera che ciascuno per la sua parte, prima abbiamo discusso in maniera approfondita di quello che le guide debbono sapere o dovrebbero sapere in anticipo per poter svolgere il loro lavoro al meglio, dico ciascuno per la propria parte sappia come comportarsi in ogni momento dell'erogazione del prodotto turistico. Ora, ci sono tutta una serie di problemi che si frappongono al fatto che il turista con disabilità riesca ad avere queste informazioni nel modo in cui le desidera, nel modo che sarebbe più opportuno perché la sua attività di turista si svolga al meglio. Intanto, da un punto di vista generale, anche se ieri abbiamo detto che il turista con disabilità è un turista a tutti gli effetti e vuole andare nella destinazione che gli fa più comodo, non è raro il fatto che in effetti la destinazione stessa, il modo in cui la destinazione si presenta al turista, il modo in cui la destinazione è accogliente nei riguardi del turista, più o meno accogliente, in effetti crei poi una non libertà di scelta. Io non dico che si arrivi all'eccesso di andare in montagna se si desidera andare al mare, ma è probabile che le scelte siano orientate più dal modo in cui la destinazione si presenta piuttosto che dai propri desideri individuali. E conseguentemente, se l'accessibilità, intesa in senso lato, condiziona le scelte, a maggior ragione a condizionare le scelte è anche la disponibilità delle informazioni, questo computer oggi è particolarmente sensibile, delle informazioni che forniscono sia elementi tecnici che in parte anche elementi comportamentali su quelle che sono le varie componenti del prodotto turistico. Se io devo prendere un treno, devo sapere che il treno e che il personale del treno, o meglio delle ferrovie, è preparato ad accogliermi, ma che il treno stesso è fisicamente adatto a fare in modo che io possa salirci e possa viaggiare dal punto A al punto B in piena autonomia e in piena sicurezza. Quindi, da una parte è il discorso personale che limita la possibilità di scelta, dall'altro è un discorso di disponibilità delle informazioni stesse. Non solo perché a volte non ci sono, ma anche e soprattutto perché a volte ce ne sono, ce ne sono troppe, non si sa a chi chiederle, ma soprattutto non si sa come queste informazioni sono state raccolte. E quindi la persona che comincia ad affrontare il suo viaggio, vi ricordate la catena dei servizi turistici? Il primo anello è la preparazione del viaggio. Comincia a prepararsi il viaggio e in effetti non sa, o lo sa con molta approssimazione, se quello che andrà a trovare lo mette al sicuro da imprevisti oppure no. In effetti, una ricerca fatta nell'ambito di un progetto europeo che si chiamava CARE, nel definire l'identikit del turista, ha tirato fuori alcuni punti fondamentali. Intanto che, per esempio, ciascuno si organizza in maniera individuale. Utilizzano molto la fonte internet, ma si fanno anche molto, non dico condizionare, ma sostenere dal passaparola. Se qualcuno che ha le mie stesse esigenze è andato in un posto e si è trovato bene e me lo dice, io posso essere ragionevolmente tranquillo che quello che mi dice aiuta anche me. Con l'enorme diffusione dei social network, questo è ancora più importante, è ancora più sentito ed è ancora più utilizzato. Oppure si prendono delle guide specialistiche, perché indico specialistiche? Perché sono guide fatte per le persone con disabilità. Roma accessibile, Bari, ammesso che ci sia, accessibile, Milano accessibile e così via. Queste guide non raccontano la storia e la possibilità di visite che stanno a Roma, a Bari o a Milano, ma non sono altro che un elenco di strutture turistiche in cui qualcuno mi dice come sono fatte. Vedremo poi come vanno considerate e valutate queste fonti informative. Va a cercare sulle riviste specializzate, per cercare informazioni che possano rispondere alle domande che lo riguardano. Ma quello che è più grave, se io copro in parte la proiezione, e allora mi sposto. Ok, spero di non essermi spostata troppo rispetto al... Il problema è che non sono soddisfatti di quello che vanno a trovare. Tant'è vero che il 37% ritiene che queste informazioni reperite in questo modo non siano affidabili o lo siano solo parzialmente. Tutte e anche quelle riperite attraverso il passaparola? Quelle riperite attraverso il passaparola possono andare bene perché è un rapporto da pari a pari. Se io ho le stesse esigenze che a lei e io mi sono trovata bene in certe circostanze, lei può essere ragionevolmente sicuro che con tutte le differenze che poi passano da individuo a individuo ci sia un'affidabilità abbastanza sostenuta. Ma probabilmente tutto quello che non è passaparola è molto più penalizzato. Non abbiamo detto che sono il 100% di insoddisfazione, ma una cifra, una percentuale a due cifre che si avvicina al 40% lascia comunque abbastanza riflettere sul fatto che molte di queste informazioni sono fornite magari anche in totale buona fede, ma che non rispondono effettivamente all'uso per cui sono state create. Prego. Il terzo è come uno si organizza, però in genere tutti dicono che indipendentemente dalla fonte che utilizzano, abbiamo detto che ragionevolmente possiamo escludere, anche se non completamente, il passaparola, per il 37% quello che trova non soddisfa le sue esigenze, non sono affidabili le informazioni o lo sono parzialmente. Cosa significa? Che io dico che una cosa è bianca e invece è nera, oppure dico che è bianca e invece è grigia, ma se io ho bisogno che assolutamente sia bianca, nel grigio e nel nero mi stanno bene, perché mi comportano tutta una serie di problemi. Ieri abbiamo parlato dei problemi che una persona, che un turista con disabilità trova se arriva a destinazione e non trova rispondenza fra l'offerta e le proprie esigenze e lo abbiamo soprattutto accennato in funzione dei vari livelli della catena dei servizi. Se io non trovo un mezzo di trasporto accessibile, corro il rischio di non partire. Se il trasporto è accessibile, arrivo a destinazione e non trovo un mezzo di trasporto locale che mi possa portare in albergo, corro il rischio di dormire in aeroporto o alla stazione per una settimana. Se arrivo in albergo e non posso utilizzare quello che ho prenotato, sono nei guai, perché non so dove andare a dormire, perché probabilmente è difficile, ancora più difficile, trovare un'alternativa e così via. Diciamo che dal punto di vista dell'utilizzo vero di una vacanza, questi elementi sono fondamentali. E' anche vero che se io pianifico di vedere il palazzo, il castello di Conversano e poi mi accorgo che non ci sono ascensori, ci sono una marea di scale, io la mia visita turistica non riesco a farla. Questo mi fa arrabbiare, ma se non altro dormo, questo farà sì che poi quando torno dico all'operatore turistico mi devi ridare X soldi perché quello che mi hai detto non ho potuto fare, ma sono arrivato e riesco a dormire, sperando che in albergo il ristorante sia accessibile, se non dormo ma non mangio. Ok? Quindi le informazioni sono assolutamente importanti perché al momento in cui non risolvono o non risultano adeguate a quello che io mi aspetto, la mia vacanza corre tantissimi rischi, in vari momenti e in generale. Dal punto di vista dell'operatore, mettiamoci da entrambi i punti di vista, è anche vero che l'operatore deve dare queste informazioni, se io vado in un'agenzia di viaggio e chiedo l'albergo XY permette l'ingresso ai cani guida, l'operatore me lo deve dire, altrimenti io scelgo un altro albergo. E quindi anche per l'operatore è necessario disporre di tutte le informazioni che gli consentono di rispondere in maniera professionale alle richieste delle varie tipologie dei clienti. Ovviamente anche qui vedete che è stato evidenziato in maniera molto precisa, facendo in modo che queste informazioni non siano soltanto un pezzettino, ma che si riferiscano a tutto l'insieme del viaggio, in maniera che, come abbiamo detto un minuto fa, sia tutto assolutamente soddisfacente per il cliente. In più, l'operatore deve sapere come interagire con il cliente. Prima ci eravamo posti il problema, ma certe cose gliele chiedo o non gliele chiedo. Per rispondere in maniera adeguata io devo sapere esattamente di cosa il mio cliente ha bisogno. Quindi, come abbiamo già accennato ieri, e ci siamo detti, mi pare che qualcuno avesse fatto una domanda, ma si può chiedere, si deve chiedere solo quello che serve per fare in modo che il nostro prodotto e la nostra risposta professionale al prodotto sia in linea con le esigenze del cliente. A nessuno verrà mai in mente, e se dovesse venirvi in mente, cancellatelo immediatamente, di fare domande di tipo personale sulle esigenze. Dobbiamo asetticamente elencare le esigenze del perché o del per come i nostri clienti abbiano queste esigenze non ci deve interessare nulla. Questo ve lo dico, sembra ovvio, ma ve lo dico perché molto spesso può capitare che le domande vadano oltre. E questo è ovviamente assolutamente negativo, innanzitutto per la considerazione del cliente come cliente, e poi perché dimostra un'ingerenza nei fatti privati della persona che ci sta di fronte che professionalmente non è giustificabile a nessun livello. Un'ultima cosa assolutamente importante dal punto di vista dell'operatore è al momento in cui riesce ad avere delle informazioni, essere capace di valutare i dati. Ora, a me dispiace che non abbiamo il tempo, perché su questo argomento mi sarebbe piaciuto farvi fare un lavoro di gruppo e avrei portato delle guide stampate di cui una molto ben fatta, una molto mal fatta e una così così e avrei chiesto a voi di valutare il perché e il per come. Ma questo ci porta via più o meno un'ora e quindi non è proprio pensabile in una situazione di questo genere. Adesso vedremo sulla base di tutti gli elementi che andremo a vedere insieme in questa chiacchierata, se vi capiterà di avere fra le mani delle guide, come quelle a cui facevo riferimento prima, delle guide specialistiche, provate a fare una valutazione di affidabilità della guida stessa, perché questo più o meno, oppure fatelo per esempio su dati internet, perché questo vi aiuta e vi fa entrare più in sintonia con la valutazione del dato che acquisite e che poi andate a restituire al cliente. Allora, per valutare e per cercare di capire come gestire le fonti informative dobbiamo essere coscienti di che cosa andiamo a cercare. Dobbiamo sapere dove andare a cercare e dobbiamo essere anche capaci di immaginare come andare a cercare queste informazioni. Che cosa dobbiamo cercare? Aspetti legati alla presenza di barriere. Non vi sto dicendo di cercare se una cosa è accessibile o no, vi ricordate tutto quello che vi ho detto ieri a questo riguardo, ma aspetti legati alla presenza di barriere, sì. Se io devo cercare informazioni su questo palazzo, devo sapere che da un certo punto in poi ci sono solo scale, ci sono o non ci sono mancorrenti, qui non ci sono per esempio, l'ascensore non arriva fino a un piano che magari mi interessa e nel caso l'ascensore ci sia, devo andare a vedere come è fatto l'ascensore per capire se la sua struttura è o meno una barriera per i miei clienti. Badate bene che non sto parlando solo di clienti con disabilità motoria, vi ho già detto ieri che un ascensore che abbia le pulsantiere lisce non consente a un non vedente di capire a che piano deve scendere. Non glielo consente neanche se l'ascensore non dice stiamo arrivando al primo piano, oppure siamo arrivati al primo piano. Ok? Se un ascensore è stretto o ha la porta stretta non consente a una persona che usa la sedia a ruote di entrare e a volte nemmeno di uscire. Quindi le barriere sono varie e come nel caso di questa struttura, per esempio, dovremo riportare al nostro cliente con disabilità motorie tutti questi vincoli. lo possiamo anche riportare al nostro cliente con disabilità sensoriali a una persona sorda. La persona probabilmente ci dirà che per quello che lo riguarda, a meno che non abbia un'età venerabile, i gradini sono poco significativi. L'importante è che noi facciamo la lista di tutte le barriere e ce le andiamo a cercare nelle fonti informative che dovremo consultare. Tenete presente che un apparatore turistico, soprattutto se fa turismo che parte dalla Puglia e va verso gli Stati Uniti, non è pensabile che parta prima e si faccia tutto il giro per poter reperire le informazioni nel caso. E quindi dovrà necessariamente fidarsi di qualcun altro. E noi vedremo come dovrà fare per fare in modo che questa fiducia non sia mal riposta. Aspetti legati alla presenza di ausili. Che cosa esiste nella struttura per fare in modo che l'ingresso, il transito e l'uscita della persona con disabilità sia facilitato. In senso lato, l'ascensore è un ausilio, ma in questo caso potrebbe essere, per esempio, un museo in cui per persone che hanno difficoltà a percorrere lunghi percorsi sono a disposizione delle sedie a ruote in affitto. Potrebbe essere necessario sapere se in una struttura alberghiera esistono dei sistemi di comunicazione per persone sorde che mettono in contatto il telefono con un computer in maniera che la comunicazione sia facilitata e così via. Può essere necessario avere, per esempio, un sistema che consenta a una persona che ha difficoltà di movimento o una persona paraplegica o tetraplegica di acchiapparsi a qualcosa che cade dal soffitto, che è appeso al soffitto per spostarsi. Quindi tutte le possibilità di ausili che possono essere richiesti dal vostro cliente. E in più dobbiamo, ribadisco qui, il cosa e anche cosa chiedere al cliente, che cosa devo andare a cercare per risolverti il tuo problema e come chiedere l'abbiamo detto un secondo fa. Dove andiamo a cercare tutte queste cose? E' chiaro, oggi sento un gran silenzio. Che succede? Non avete più domande? Tiratele fuori se servono. Allora, ci sono delle fonti istituzionali che a volte ci possono dare delle risposte, che sono l'ente nazionale per il turismo, gli enti provinciali del turismo, le proloco, tutti coloro che hanno come diciamo compito istituzionale quello di fornire informazioni turistiche. oppure possiamo chiedere a organizzazioni di o per persone disabili che molto spesso sapendo quali sono le caratteristiche dei propri soci sono in grado di ottenere, acquisire e gestire informazioni che riguardano però le diverse tipologie di disabilità. possiamo chiedere a sportelli informativi che sono gestiti a livello locale, regionale o nazionale per dare informazioni alle persone con disabilità e quindi si presume che questi sportelli dispongano di una banca dati che può dare informazioni sia all'utente finale sia all'operatore che magari vuole acquisire qualche notizia particolare su quello che lo interessa per riportarlo al cliente. Possiamo riferirci alle guide, quelle guide di cui parlavo prima e possiamo ovviamente riferirci anche ai siti internet. Vado sempre avanti tranquilla? Tutto chiaro oggi? Ora, prego? Allora, se avessi un sito internet come un museo il famoso non avrei assolutamente questa possibilità. Vero? Infatti, sarebbe opportuno che i siti internet di tutte le strutture turistiche significative comprendessero anche questo tipo di informazioni. Allora, diciamo che il Mibact ha lanciato qualche anno fa tutta una serie ha fatto tutta una serie di bandi uno di questi bandi è stato acquisito da una cooperativa che ha creato un sistema di verifica delle condizioni strutturali dei vari edifici che permettono di dare poi alla persona che interroga il sito le informazioni di cui ha bisogno. Ora, Ministero dei beni e le attività culturali e la T è turismo perché dall'anno scorso si sono uniti e quindi prima era solo Mibact adesso è Mibact quindi per esempio sul sito del Mibact qualcosa si riesce a trovare le informazioni le informazioni raccolte attraverso questo progetto sono ancora congelate perché devono essere definito il sistema informatico con cui devono essere riprodotte però quello che è importante è che a livello ministeriale si sia compreso che la necessità di dare informazioni a questa tipologia di clienti è importante e che si sia compreso anche che deve essere data nella misura non accessibile sia accessibile no ma nella misura questa è la realtà decidi ci sono tutta una serie di altri musei se voi andate sul sito del castello di Schönbrunn trovate tutta una serie di informazioni molto interessanti sul modo in cui le persone con disabilità possono visitare il castello e quelle che sono le diciamo le modalità con cui alcuni aspetti possono essere visti un attimo solo per esempio i musei vaticani da anni fanno una politica di accesso per le persone con disabilità sia dal punto di vista della disabilità motoria che dal punto di vista della disabilità sensoriale nel senso che è vero che i musei vaticani hanno avuto un premio dalla commissione europea nei lontani anni 90 è anche vero che il concetto che era stato sviluppato all'epoca era quello di sviluppare di mettere a disposizione un percorso separato per le persone con disabilità rispetto ai flussi di visitatori normali che in certi casi nel caso dei musei vaticani può essere anche favorevole nel senso che se voi avete un'idea di quelle che sono le file infernali di accesso ai musei vaticani e conseguentemente i flussi interni possono veramente spaventare chiunque quindi il fatto che le persone con disabilità soprattutto quelle con disabilità motoria avessero un percorso alternativo anche se non indice di massima inclusione permetteva però di fare una visita che raggiungeva quasi tutti i punti interessanti del museo credo che uno dei pochi esclusi fosse l'area egizia ma si riusciva a vedere l'intera pinacoteca si riusciva a vedere la cappella Sistina le stanze di Raffaello le stanze il corridoio delle carte geografiche in più era possibile su richiesta aprire il adesso mi pare che fosse non mi ricordo come si chiami quella sezione quella sezione dove ci sono opere sculture in maniera che alcune di esse potessero essere toccate da persone non vedenti quindi ora il museo di Conversano che vi devo dire intanto bisogna andare a vedere da chi dipende vi ho parlato di Mibat quindi a livello nazionale poi ci sono competenze comunali competenze locali provinciali e così via e quindi è chiaro che è assolutamente necessario che il concetto generale e da questo punto di vista credo che il comitato che lavora all'interno del Mibat debba arrivare anche a questo punto oltretutto nel comitato sono presenti le regioni e presenta una rappresentante della regione Puglia che è attentissima a tutto quello che viene svolto e a tutti i lavori che si fanno nel comitato bisognerà man mano arrivare a questo quantomeno a fare in modo che le informazioni ci siano poi poi sarà un compito della sorrentendenza del comune dei proprietari comprendere che se questa sala riunioni non è accessibile per persone con disabilità motorie questa sala riunioni primo non sarà mai utilizzata o mai più utilizzata da chi parla di turismo per tutti secondo si tagliano fuori da un bel po' di eventi che potrebbero portare loro un introito Sidi Ah no un attimo serve il microfono altrimenti siamo fuori da streaming Si parlava prima di sportelli informativi e quant'altro io ovviamente come Puglia Accessibile stiamo facendo stiamo creando uno sportello accessibilità all'interno attualmente non mi vergogno a dire appoggiandoci ad un CAF perché purtroppo io che faccio parte del comune di Bari più volte a colloquio con il comune di Bari ancora adesso non abbiamo avuto un posto fisso dove stare nel senso che noi siamo adesso ancora un'associazione di promozione sociale l'obiettivo mio ma anche di chi sta intorno a me è quello di creare uno sportello informativo divulgativo della cultura dell'accessibilità sia a livello generale della parola stessa sia a livello turistico quindi creando un'agenzia turistica specifica per disabili e ovviamente quello che però adesso mi congiungo a quello che comunque abbiamo sentito sul discorso per esempio un'esperienza personale voglio capire io che vado comunque come persona tecnica vado a vedere le strutture accessibili come posso divulgare questa è una domanda come posso divulgare o ai direttori o a livello istituzionale direttori d'albergo a livello istituzionale la cultura di informarsi prima di tutto appunto a fare una scheda quindi ne voglio dire siccome io sono stato per esempio ieri a una struttura ricettiva di Bari di cui non faccio nome ma è un 5 stelle quindi sappiamo più o meno qual è che mi dice noi non sappiamo quali sono le persone che vengono qui le persone che vengono qui quando vengono chiedono soltanto il discorso dei bagni quindi praticamente c'è questo come si può ecco quindi chiedo scusa perché mi sono un po' emozionato come posso chiedere cosa posso fare per riuscire a invertire questa cultura dell'informazione facendo capire alle istituzioni facendo capire comunque ai direttori che ovviamente non esiste soltanto il problema del bagno o il problema di come accedere agli hotel ma esistono tutta una serie di informazioni che diciamo il turista deve sapere quando viene a Bari tipo per esempio e su questo stiamo lavorando come applicazioni e come quant'altro cioè serve dal pulsante appunto che abbiamo detto dell'ascensore sonoro visivo eccetera a tante altre informazioni audio guide ebook eccetera eccetera c'è un modo per far capire o comunque c'è un modo per lavorare insieme per capire una legge o qualcosa per far capire che finalmente si può parlare di accessibilità e che di accessibilità non vuol dire soltanto per disabili ma vuol dire tante cose e quindi questa è una domanda specifica allora una legge forse non mi sono ho capito perfettamente allora con la legge l'unica cosa che possiamo fare è diciamo imporre in prima battuta in caso nel caso la legge lo preveda il decreto 236 e così via sono tutte leggi italiane con decreti applicativi che hanno trattato il tema dell'abbattimento delle barriere ora nel caso di nuovo edificio ristrutturazione significativa di un edificio queste barriere dovrebbero essere non limitate ma annullate completamente in maniera che la persona possa fruire dell'edificio nella sua completezza questo può fare la legge come fare tu mi dici a convincere qualcuno che deve andare oltre con il convincimento con il fatto con l'informazione con l'informazione con la consapevolezza che sta perdendo un'occasione esatto ma non puoi metterglielo cioè questo è l'unico modo e al limite man mano che saranno disponibili maggiori dati per esempio ecco come vi ho detto ieri andate a leggervi questo studio fatto a livello europeo già alcuni di questi dati incontrate le persone incontrate gli operatori e soprattutto le categorie perché se io faccio ho difficoltà a convincere il singolo albergatore ma magari riesco a convincere la categoria a cui appartiene che sia Confindustria che sia Federalberghi che sia quello che volete è più facile arrivare ai singoli operatori perché è come è un discorso che parte dal dal top se riusciamo a fare in modo che e ci riusciamo perché soprattutto a questi livelli la convinzione che sia importante e remunerativo esiste è necessario fare in modo che scenda nei singoli operatori hanno avuto solo una persona disabile non importa tutto quello che nel loro nella loro struttura esiste non gli andiamo a chiedere in questo caso di modificare potremmo anche farlo ma questo è un altro ambito ma quello che nella struttura esiste renderlo noto perché no non costa nulla quindi aiutarli con la formazione quindi aiutarli con più che con le informazioni informazioni ce le devono dare loro aiutarli con il convincimento e facendo vedere loro che se le informazioni non le danno probabilmente la gente non va perché non lo sa e quindi tanta tanta diplomazia ci dobbiamo impegnare un po' tutti a che sia tutto fruibile certo no che sia attenzione che sia fruibile è un discorso tecnico e al momento in cui un albergo viene ristrutturato devono necessariamente seguire la legge non c'è dubbio ma se poi l'albergo è ristrutturato ma non lo dice a nessuno non ha molto senso bisogna far comprendere loro che al momento in cui hanno un prodotto che si è qualitativamente rivalutato è opportuno che lo mettano in piazza perché questo permette loro di attirare più clienti e quindi questo è un discorso più relazionale direi allora vediamo pro e contro di tutte queste tipologie call center quindi diciamo sistemi sportelli informati di forza sono che abbiamo un contatto diretto con l'operatore e molte volte in questi contact center ci sono anche persone con esigenze specifiche quindi è più facile avere un rapporto da pari a pari e spiegare le proprie esigenze a qualcuno che forse le comprende in quel momento più di altri le risposte sono dettagliate e valutate da esperti e le informazioni sono specificatamente ricercate in base all'esigenza della persona per cui possiamo ragionevolmente aspettarci che quello che ci viene detto faccia al caso nostro ci sono però anche dei punti di debolezza che potrebbe essere il fatto che io non ho subito la risposta da darti è vero che quelli che esistono da più tempo hanno una banca dati di quelle definite FAQ che sono le risposte che si danno più di frequente su cui possono accedere però a volte capita la domanda particolarmente circostanziata e dettagliata che richiede un approfondimento e quindi io non riesco a rispondere subito a chi mi contatta i tempi di ricerca in questo caso si allungano e quindi questo può far sì che magari io preferisco andare a navigare su internet e vedere se riesco subito avere l'informazione che mi interessa vediamo come guide io parlo di guide stampate l'equivalente per le persone con disabilità delle varie lonely planet touring e così via ok allora l'informazione immediata io sfoglio la guida e trovo o non trovo ma se la trovo la trovo subito è molto sintetica quindi mi dice sì no o forse ma le guide hanno dei punti di debolezza che sono per esempio il sistema di distribuzione ora molte di queste guide sono fatte su iniziativa pubblica il comune di Roma il comune di Bari il comune di Firenze a un certo punto decide che si vuole aprire a questo mercato finanzia una cooperativa un ente qualsiasi che va in giro raccoglie informazioni e le diciamo riunisce nella guida vedremo poi in che modo dopodiché ne tira quante copie 5.000 10.000 se ci dici troppo bene e in più è una distribuzione gratuita per cui stanno presso il comune stanno presso l'associazione la persona che sta a Milano come le riceve queste guide per cui non sappiamo bene come arriveranno a destinazione è vero prego esatto è vero che adesso molte sono online e quindi questo punto di debolezza potrebbe risultare abbastanza superato chi ancora produce guide cartacee è ormai in un periodo che va rapidamente verso la preistoria un altro punto di debolezza è l'aggiornamento dei dati se io raccolgo i dati oggi li pubblico anche online dopodiché il comune decide che quella volta è stata una bella esperienza una cometa che apparsa nel cielo che non ritornerà se non magari tra 70 anni quei dati cominciano a invecchiare e dopo sei mesi non sono più buoni o cominciano a non essere più buoni e quindi limitato numero di copie l'abbiamo detto e poi sono settoriali molto spesso sono settoriali più delle volte c'è la guida di assisi per persone su sedia ruote e le altre oppure la guida dell'unione italiana ciechi sto parlando senza nessuna base per le persone non vedenti quindi purtroppo a volte si fa sì che ci si rivolga ad un gruppo mentre noi abbiamo visto ieri che le persone con disabilità sono varie e il nostro cliente può essere anche lui appartenere a una delle tantissime categorie e quindi può non trovare risposta neanche sulle guide pubblicate su internet i siti internet l'informazione la danno subito possiamo arrivare con i siti internet e lo vedremo poi anche a informazioni di dettaglio quindi superare in un certo senso quella che è stata anche la discussione che abbiamo fatto ieri con lui sul fatto di dire io ti dico accessibile o no e tu ti devi fidare sui siti internet io vado oltre vado scavo 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 nelle varie pagine fino ad arrivare al dato di ultimo dettaglio che magari è quello che serve a me più che una valutazione generale ma bisogna sapere quali sono i criteri con cui le guide sono messe online e quindi questo molto spesso nei siti internet non c'è parlo parlo della metodologia di raccolta di chi le ha fatte e così via che in genere sulle guide stampate compare e quindi se la metodologia non è trasparente io come faccio a fidarmi del dato anche qui molto spesso sui siti internet non c'è uno bisogna che se lo vada a cercare e poi scopre che l'ultimo articolo che parla di quei dati risale al 2006 purtroppo non è regolare il fatto che si metta aggiornato il perché se io ho una data di aggiornamento posso ragionevolmente dato per dato ovviamente non del sito in generale io posso ragionevolmente immaginare che quella struttura sia stata verificata professionalmente da poco e quindi mi posso fidare dei dati come andarli a cercare motori di ricerca vacanze per disabili o turismo accessibile se voi già cominciate a digitare queste diciamo queste poche parole riuscite a trovare tutta una serie di informazioni che ci dicono anche come andarle poi a valutare allora quando abbiamo scoperto che esiste una guida un sito internet e tutto sommato un po' forse anche i contact center anche se lì possiamo approfondire con la persona con cui stiamo parlando se quello che mi dice posso chiedere più cose allora dobbiamo intanto reperire il materiale accertare che la struttura abbia il simbolo di accessibilità in questo caso mi riferisco a materiale prodotto dagli enti istituzionali le brochure della proloco che non è detto che ce l'abbia o qualche altro simbolo che attesti l'usabilità del dato verificare chi ha raccolto le informazioni e con quale metodologia perché dico questo molto spesso le informazioni sono raccolte in maniera professionale ci si munisce di un sistema di acquisizione dei dati e le persone che vanno a fare le verifiche vengono formate per comprendere il modo giusto per prendere un dato e inserirlo nel questionario sia esso cartaceo che utilizzando tablet o qualsiasi altro sistema che ci consente di inserire il dato in maniera più semplice molto spesso queste informazioni sono raccolte per telefono caro alberco mario rossi sei accessibile sì sì allora se io ho una guida che mi dice tutti i miei dati sono stati raccolti telefonicamente quella guida la metto laggiù in fondo e mi vado a cercare altri dati da qualche altra parte perché è probabile che l'operatore sia corretto ma soprattutto che sappia come rispondere perché a volte non ne hanno idea oppure è probabile che io faccia la classica domanda oste il vino è buono ovviamente la mia risposta la risposta che ottengo è sì e in questo caso corro dei rischi notevolissimi quindi verificare la metodologia di raccolta delle informazioni è fondamentale e questo comincia a essere già una sono già dei punti per cui se farete questo esperimento troverete una guida o anche un sito internet per vedere se è buono o non buono avete già dei punti di controllo per capire come procedere controllare la data della rilevazione ora ahimè quello che viene rilevato oggi ha una durata di validità che può variare dai sei mesi a un anno se questa rilevazione è stata fatta tre anni fa io mi posso ragionevolmente aspettare che il dato necessiti di una riberifica quindi se vedete che la data di rilevazione è troppo lontana rispetto al momento in cui voi state consultando il dato o decidete di metterlo là insieme alla guida di prima oppure dovete necessariamente verificare chiamando magari la struttura stessa e accertare con la direzione cosa vuol dire e quale valore ha il simbolo dell'accessibilità per loro molto spesso soprattutto devo dire sulle pubblicazioni istituzionali una volta non so se ci sia ancora c'era un annuario dell'ENIT che portava tutti gli alberghi d'Italia suddivisi regione per regione e a fianco a ogni struttura c'erano tutta una serie di simboletti che significavano camere camera singola camera doppia le posate per ristorazione il parcheggio e così via e insieme a tutti questi simboletti c'era anche il simbolo della sedia a ruote questo non significava che l'albergo consentisse un accesso facile per le persone su sedia a ruote ma magari voleva dire che la direzione accettava le persone su sedia a ruote innanzitutto grazie ma secondo non sapevamo nulla di quella struttura quindi verificare che cosa significa quel simboletto apposto è assolutamente importante e poi ovviamente a questo punto quando abbiamo raccolto tutte queste informazioni andiamo a verificare con il nostro cliente quali sono le prospettive che ci abbiamo di fronte in termini di informazioni per esempio che l'organizzazione mondiale del turismo che tra l'altro ha appena rilasciato un documento sulla importanza e la significatività etica del turismo per tutti l'organizzazione mondiale del turismo parla a tutti coloro che si occupano del turismo e già nel 2005 ha dichiarato nelle risoluzioni che adottano nelle loro assemblee generali che le pubblicazioni turistiche o ogni altro materiale promozionale dovrebbe fornire una chiara indicazione dei servizi e delle strutture accessibili questo dove ci porta? Ci porta in tutte quelle pubblicazioni che non sono quelle di cui abbiamo parlato fino adesso che io ho definito specialistiche ma sono tutte le pubblicazioni turistiche che vengono prodotte dove io vi sfido se ne abbiamo qui davanti dieci a trovarne almeno una che contenga qualcuna di queste informazioni e parlo di informazioni prodotte a livello pubblico molto spesso da enti pubblici che si occupano di turismo e che quindi teoricamente sono enti pubblici che lavorano col denaro di tutti noi anche delle persone con disabilità sempre l'organizzazione mondiale del turismo rinvita nuovamente gli stati membri a pubblicare informazioni chiare e dettagliate sulle strutture ricettive esistenti e l'elencare i problemi che esse possono per le persone con disabilità ed elencare i problemi che le persone con disabilità possono incontrare durante un viaggio qui andiamo oltre qui non solo dicono dammi informazioni ma dicono pure elencami i problemi quindi a questo punto dammi una descrizione di quelle che sono le strutture ricettive dicendomi questa presenta questo 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 problema ancora una volta nell'ottica di migliorare la possibilità per la persona di scegliere in totale autonomia ora che le amministrazioni pubbliche abbiano più o meno lavorato per creare dei sistemi è vero e per esempio vi volevo parlare di un servizio informativo che esiste a livello nazionale che è il servizio superabile promosso da INAIL che ha un sistema di informazione con un call center e che oltre a occuparsi di tutti gli aspetti che riguardano la vita della persona venendo da INAIL sono fondamentalmente orientati per le persone che hanno subito incidenti sul lavoro e quindi parlano del loro possibile reinserimento ma nel caso di superabile tutto ciò è stato allargrato alle persone con disabilità e tiene in conto tutti gli aspetti della vita se non ne abbiamo parlato quindi andatevelo a vedere quando avrete il materiale ma se vedrete quello che dice la convenzione ONU la convenzione ONU non parla solo di turismo parla di tutti gli aspetti della vita sociale lavorativa educativa di una persona con disabilità superabile è tarato sullo stesso sistema ma si occupa anche del discorso del tempo libero sia con un contact center che con la possibilità di contattarli via email che con la possibilità di accedere a un sito che è addirittura suddiviso per regioni allora ora che succede in Europa vediamo un po' di intanto prima di andare avanti vorrei capire se tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso è chiaro o vi ha lasciato dei dubbi oggi volete far parlare solo me allora a livello internazionale diciamo che molti paesi si sono dati un marchio di qualità per fare in modo che le aziende che sono più aperte più operativamente usabili dal punto di vista di un turista di un turista con disabilità siano riconoscibili intanto per esempio c'è il marchio l'ISA che è il simbolo internazionale di accessibilità quello più conosciuto è questo l'avrete visto in tante occasioni una volta l'omino è seduto da una parte una volta è seduto dall'altra ma fondamentalmente è quello che rappresenta il fatto che esista un qualche cosa per le persone con disabilità è stato introdotto nel 1970 e c'è da dire immediatamente che pur essendo largamente diffuso in tutto il mondo crea soprattutto nei paesi che hanno fatto un percorso di autonomia più ampio rispetto ad altri tutta una serie di da luogo a tutta una serie di critiche perché non descrive tutte le disabilità questo simbolo punta immediatamente alla disabilità motoria anzi non solo alle persone che usano la sedia ruote punto mentre in effetti viene utilizzato in qualche raro caso c'è il simbolo dell'occhio in qualche altro raro caso il simbolo dell'orecchio ma in linea di massima si piazza questo simbolo e per intendere tutti inoltre questo simbolo è stato modificato molto di recente con l'intenzione di creare un simbolo che è più attivo da parte della persona che sede sulla sedia a ruote vedete che c'è una specie di movimento nelle braccia quindi per intendere una maggiore partecipazione della persona stessa alla sua vita fondamentalmente fermo restando che soprattutto nei paesi anglosassoni la critica rimane non è significativo di tutti le tipologie di disabilità è anche vero che in certi paesi dove questo simbolo si affaccia per la prima volta da pochi anni è già un vantaggio che esista anche se non descrive esattamente tutto quello che rappresenta vediamo che è successo qui parliamo di certificazione di qualità delle informazioni in Svezia hanno creato un simbolo un marchio che si chiama equality e che certifica la qualità del turismo accessibile o quantomeno certifica che le informazioni che riguardano il turismo accessibile siano state raccolte in maniera qualitativamente certificata quindi bisogna cercare tanto è vero non so quanto si veda che sul diciamo sul sito di equality in questo caso è un albergo in Svezia c'è la foto dell'albergo una prima descrizione in alto molto sintetica che dice che l'albergo dove è posizionato l'albergo a destra della stazione centrale di Malmo è vicino a molte attrazioni turistiche e poi aggiunge ci sono 103 stanze che sono completamente analergiche dopodiché va a dare informazioni di tipo generale queste prime informazioni capisco che non è assolutamente accessibile questa slide queste prime informazioni ma esiste anche questo discorso ovviamente che vale in questo caso non potevo fare altrimenti ma vale per il modo in cui le informazioni sono contenute in una slide in maniera che tutti possano acquisirle in maniera semplice e questo significa accessibilità delle presentazioni powerpoint se dovete fare delle presentazioni powerpoint e volete seguire questi criteri non fate altro che trovare sul sito internet quali sono semplicemente digitando powerpoint accessibilità allora le prime sono informazioni di tipo generale dove sta indirizzo email eccetera eccetera poi comincia a dare informazioni di tipo particolare ingresso e da tutti i dati che sono stati raccolti con la rilevazione che arrivano all'altezza del campanello per chiamare la reception alla se l'altezza del la larghezza del vestibolo l'altezza della soglia la larghezza delle porte quello che io vi dicevo queste informazioni vengono sempre raccolte al una persona va a verificare una struttura qualsiasi darle in questo modo significa che ciascuno guarda quello che la riguarda che lo riguarda e dice bene mi sta bene oppure non mi sta bene l'hotel Malmo non fa per me ne cerco un altro l'altezza del banco alla reception e così via scusate ho chiuso ma come questo voi trovate tutti i singoli passaggi ingresso reception ristorante ascensore stanza da letto bagno eccetera eccetera tutti i percorsi che vengono fatti al momento in cui uno va a raccogliere informazioni sull'accessibilità scusatemi no ce ne sono in vari paesi la Svezia utilizza questo sistema i quality i quality è utilizzato anche in Austria e anche perché è derivato da un progetto finanziato a livello europeo che ha creato le basi per la tipologia di questionario e quindi alcuni poi lo hanno sviluppato Svezia Austria e sicuramente anche parte della Germania quello che voglio dire è che comunque queste informazioni in linea di massima sono sempre le stesse quello che cambia e adesso lo vedremo immediatamente dopo è il modo in cui vengono restituite in questo caso vengono restituite lasciando all'utente finale la scelta totale di come fare nel diciamo nell'esempio successivo l'entere turistico delle fiandre anche loro danno informazioni sul livello di usabilità delle strutture ma come fanno danno dei simboli allora c'è un cerchio con una freccia in linea di massima non utilizzano la sedia a ruote e ognuno di questi nella metodologia indica qualcosa di più ma indica una valutazione sintetica data da loro quindi per esempio andiamo a prendere questo con la A più un edificio con un'etichetta A più è accessibile in modo confortevole rispetto a prima questo mi dà un'informazione sintetica ma se è anche vero che mi dicono che loro parlano solo a persone con disabilità motoria quindi se io sono un non vedente non utilizzo questo sito perché non parla con me ma anche se sono una persona con disabilità motoria io non riesco a capire che cosa è accessibile in modo confortevole di che sto parlando dell'ingresso se è un albergo della reception della camera del bagno dell'ascensore è chiaro il discorso? diciamo che a volte è completata da una piccolissima descrizione quindi in questo caso che cosa succede? che le persone ora l'organizzazione del turismo fiammingo è un'organizzazione affidabilissima quindi se io trovo un albergo con la A più mi fido però in questo caso è necessario comunque un atto di fede che a volte potrebbe trovarsi di fronte a situazioni un po' drammatiche no allora perché un viaggio sia utilizzabile con il massimo della soddisfazione tutti gli elementi devono essere diciamo accessibili questi sono dei sistemi informativi che mi vanno a dire qualcosa su qualcuno degli elementi nel caso della Svezia ho preso un esempio di un albergo quindi parlo della parte della catena che mi parla di strutture alberghiere ok? molti di questi schemi utilizzano diciamo aggiungono agli alberghi nel caso del turismo delle fiandre no quelle sono per gli alberghi molti aggiungono anche altre strutture tipo ristoranti musei servizi di trasporto ok? quindi allora la catena significa che se io voglio fare felice il mio cliente debbo fare in modo che tutto funzioni qui mi devo andare a cercare le informazioni arriva uno che mi dice voglio andare nelle fiandre ecco questo è un modo per andare a vedere quello che mi dicono quando scopro che ci sono solo alberghi e dovrò chiedere a qualcun altro come funzionano i ristoranti ad avversa ok? però adesso parliamo di come valutare e cercare le informazioni ok? ora loro stessi che hanno lanciato una grossa iniziativa nel centenario della grande guerra hanno deciso che dal momento che non esistevano icone per altre strutture perché loro parlano di alberghi hanno deciso di prendere in considerazione caffè ristoranti bagni monumenti e quindi hanno creato questo simbolo particolare la W per war in maniera e utilizzano lo stesso sistema come vedete il più il normale in questo caso hanno anche si sono anche spostati verso un sistema quasi semaforo rosso giallo e verde e comunque continuano a parlare solo di accessibilità per le persone su sedia a ruote questo è importante loro ce lo dicono e quindi noi lo sappiamo se viene una persona sorda noi non possiamo utilizzare loro per dare informazioni se viene una persona su sedia a ruote possiamo dar loro informazioni con quel limite che vi ho detto prima che non posso entrare nel dettaglio ma sapendo che l'associazione che l'organizzazione è affidabile posso stare abbastanza tranquillo e quindi come vedete anche lì questa precedenza di che mi parla mi parla solo di alberghi io come operatore turistico non vendo solo alberghi allora se voglio andare nella zona della grande guerra in tutte le zone in cui ci sono stati combattimenti la città di Ipro da cui viene il nome dell'Iprite e così via devo andare a cercare da un altro da un'altra parte perché solo qui mi dicono che io posso anche mangiare andare in bagno e visitare un monumento vi rendete conto di quanto è complicato mettere in piedi una rilevazione di accessibilità e quanto è anche complicato per chi la va a consultare non solo voi operatori ma anche le persone stesse che devono andare a costruire pezzettino per pezzettino in Danimarca ancora una volta abbiamo un simbolo che addirittura mi comprende sette disabilità serie a ruote ridotta mobilità disabilità visive usitive qui abbiamo l'asma e le allergie abbiamo la difficoltà di apprendimento e la difficoltà nella lettura addirittura quando uno va a leggere questo diventa matto ok? però se non altro si sono resi conto che devono parlare di più categorie per così dire in Francia hanno creato questo marchietto che identifica le strutture che sono adatte alle tipologie di disabilità motoria sensoriale e mentale infatti vedete che c'è una casetta quindi fondamentalmente parla anche qui di strutture ricettive dove in un primo quadratino c'è il simbolo della sedia a ruote poi c'è una faccetta bianca e nera che identifica le disabilità mentali non mi soddisfa molto però poi c'è un occhio e un orecchio identificando persone non udenti e non vedenti e questo è per esempio il sito in maniera che potete andare ad approfondire oltre al simbolo sintetico anche tutto quello che dicono in aggiunta in Lussemburgo hanno creato il simbolo welcome che si comporta praticamente un po' come quello svedese per cui c'è la data in alto la data di raccolta dei dati le coordinate della struttura un riassuntino per chi è troppo pigro per andare a leggersi tutti i dettagli e si accontenta del riassunto c'è anche quello se la persona è soddisfatta chiude lì se non è soddisfatta entra nei singoli dettagli e torniamo ancora una volta parcheggio ingresso e così via va bene poi ci sono alcuni esempi che allora questo è un albergo prima vi dicevo che se voi mettete dieci brochure di dieci offerte turistiche al massimo trovate in una qualche informazione questa è una brochure della Pusada Sagres hotel do infante perdonatemi la pronuncia in Portogallo che dice tutta una serie di cose che è stata fatta è storicamente importante eccetera 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 dopodiché a un certo punto della sua descrizione mi dice che la struttura include l'aria condizionata l'ascensore il ristorante il bar la terrazza l'eliporto la piscina il tennis facilità per persone disabili a a quali è vero che l'hanno scritto per cui voglio dire a metà sono stati bravi ma così non mi serve non mi serve perché non so ecco quando io dico chiarire che cosa intendono qui non hanno messo un simbolo hanno scritto un qualche cosa che però mi dice molto 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 poco bravi ad averlo scritto ma così non ci faccio nulla devo comunque chiamarvi e chiarire bene tutto quello che loro intendono esempi e rischi andiamo rapidamente allora questo l'ho trovato per caso su sulle ricerche su internet e questi signori addirittura mi parlano di disabled hotel quindi anche gli alberghi sono diventati disabili e poi mi dice hotel accessibile for handicapped persons alla grande la terza è italy hotels for invalids quindi abbiamo fatto proprio chiuso il cerchio un paio d'anni fa provate magari alla fine ha fatto una brutta fine è rimasto tale quale? ok allora come faccio a fidarmi di una cosa di questo genere e poi addirittura disables la destinazione disabilita lasciamo perdere questo è una questa l'ho scaricata nel 2010 è molto bello e sembra che sia anche molto ben accessibile l'unica cosa che non sono riuscita a farvi vedere perché o facevo vedere una cosa o l'altra è che questo segnetto giallo che sta lì sotto dice che a causa della piccola e intima natura della struttura turistica non si accettano persone con disabilità mentali che possono avere un comportamento disruptive almeno lo dicono questo è l'immagine di una spiaggia molto ben attrezzata che lascia solo un po' di idea di ghettizzazione però a voler essere particolarmente pignoli prego esatto un tour operetto che è fallito era la ventana allora la ventana è fallita per diciamo gestione manageriale globale che non funzionava il settore che avevano creato per i viaggi di persone disabili ha avuto un incremento nel primo anno di attività del 50% di reddito e negli anni in cui sono andati avanti se non sbaglio avevano un incremento non ho portato con me le slide perché ormai sono obsolete del 2% annuo era funzionava alla grande sì esatto ecco in questo caso il catalogo dei viaggi del ventaglio per esempio inserisce questa rampa in un ambiente in cui sta benissimo non si vede che è una cosa fatta a parte ed è una cosa che possono usare tutti bene abbiamo parlato di informazioni avete tutte le opportunità e possibilità per fare in modo di provare a cercare informazioni su internet e se vi capita quella che io vi ho identificato prima come un cattivo esempio dovreste ormai essere in grado tanto queste vi rimangono ve le ripassate e dovreste essere in grado di dire che hanno funzionato male siamo solo alle 6 e 20 quindi abbiamo una decina di minuti finché non arriva il coffee break noi andiamo avanti allora vogliamo fare mi avete rovinato allora facciamo così sono le 6 e 20 10 minuti ma 10 minuti tanto adesso fuori fa freddo non potete andare a fumare coffee break alle 6 e mezza ci rivediamo qui non potete non potete non potete non potete la